È intervenuto l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a Pescara per formalizzare la costituzione del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il gruppo è formato dall'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra e dai consiglieri Alessandra Petri ed Emiliano Di Matteo. Fratelli d'Italia si prepara così alla nuova campagna elettorale verso l'Election Day del 25 maggio. In fondo c'è una grande tradizione di destra in questa regione, Nino Sospiri è la persona che tutti ricordiamo, appunto uno dei grandi esponenti di alleanza nazionale del Movimento Sociale Italiano. Quindi si tratta veramente di riprendere questa tradizione, rinnovandola e questo è l'intento che il sottoscritto insieme a Ignazio Arrussi, a Giorgio Meloni, a tutti quelli che stanno lavorando a questo progetto vuole rappresentare. C'è bisogno di destra in Italia, c'è bisogno di una forza che riesca a difendere i valori nazionali. Se oggi siamo in crisi è perché c'è carenza di tutela dei valori della sovranità e dell'interesse nazionale. Dobbiamo lavorare, ha sottolineato Morra, perché in pochi mesi dobbiamo costruire le liste regionali e comunali, ma soprattutto c'è da ricostruire quella fiducia rispetto a ciò che Alemanno definisce la diaspora di alleanza nazionale. Il nostro gruppo, aggiunto di Matteo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, da destra vuole parlare all'intero centrodestra. Tutti e tre, ha evidenziato Petri, siamo stati gli elementi innovatori di questa legislatura. Fratelli d'Italia annuncia l'appoggio a Chiodi per le prossime elezioni regionali. Alemanno conclude. Io credo che ci sarà sicuramente sostegno a Gianni Chiodi. Ovviamente bisogna rivedere bene gli equilibri, il progetto, il programma, rilanciare l'azione, fare in modo che l'Abruzzo sia sempre più al centro dell'attenzione della politica nazionale, perché ha ancora il problema della ricostruzione posto terremoto, ma soprattutto è una regione decisiva per lo sviluppo dell'Italia. Grazie.